Nel nome del Padre, del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, con la gloriosa testimonianza dei santi martiri Marcellino e Pietro, ci avvolgi di amore e ci proteggi. Concedi a noi di imitarne l'esempio, e di essere sostenuti dalla loro preghiera. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te. Nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Padre nostro che sei nei cieli. Si è santificato il tuo nome. Venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà. Come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti. Come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione. Ma liberaci dal male. Amen. Ave, o Maria, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio. Prega per noi peccatori. Adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre. Al Figlio. E allo Spirito Santo. Come era nel principio. Ora e sempre. Nei secoli dei secoli. Amen. Santi Marcellino e Pietro. Pregate per noi. Prega per noi. Grazie.